Una manifestazione importantissima che finalmente è in Liguria, grazie all'organizzazione che è nata ad Imperia negli anni 80, servirà a promuovere il nostro territorio attraverso una delle sue eccellenze per l'Antonomasia, che è il nostro oro giallo, che è l'olio. Ricordo che l'olio è un benessere che bisogna trattare con cura durante la cucina, ma è attraverso l'olio e quindi attraverso gli uliveti. Il nostro panorama, soprattutto a Ponente, è cambiato tantissimo, è stato adattato all'uomo e adesso abbiamo questo mare grigio-verde che si contrappone al mare azzurro della nostra Liguria. Quindi un'ottima iniziativa per utilizzare l'olio come promozione della nostra Liguria e della Ponente Liguria. Una splendida iniziativa qui a Genova, organizzata dall'Onao, l'Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori d'Olio, un'associazione importante nata nel 1983 ad Imperia, ben gestita da Lucio Carli, che sta facendo uno straordinario lavoro insieme ai tanti collaboratori. Siamo contenti di averla portata qui a Genova perché è un evento nazionale ed internazionale che darà lustro alla Liguria, lustro al Ponente Ligure, lustro all'olio extravergine d'oliva che è il prodotto per eccellenza della nostra terra e che giustamente ha bisogno di palcoscenici importanti per essere conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.